buongiorno ed eccoci qua alla terza e l'ultima parte della nostra rosa eravamo arrivati alle foglie eravamo arrivati qua precisamente e oggi continueremo e finiremo il discorso della della rosa allora i colori intanto ricordatevi di lasciare un like alla pagina se il video vi piace ed invitare anche i vostri amici a seguire a seguire questi tutorial per imparare a dipingere perché perché dipingere dipingere su stoffa può diventare come avevo detto anche nell'altra parte del video un vero e proprio lavoro nel senso che con tanta pratica si potranno fare delle cose veramente bellissime infatti vi vorrei mostrare prima di cominciare qualcosa che si può fare ecco queste sono delle semplicissime presine abbellite poi con dei dipinti sul lino in questo caso veramente particolari se ne possono fare milioni di disegni di dipinti sul lino uno più bello dell'altro e questo può diventare anche un lavoro per finire poi a dei cuscini come questo che vi mostro come questo qua sempre sul lino ecco chi è interessato poi può scrivere nei commenti il prossimo tutorial così magari studiare qualcosa che può piacere a più gente per per crearci un nuovo lavoro ecco allora i pennelli che uso come sapete bene sono i da vinci e i borciani bonazzi allora in questo caso io sto usando intanto ho sempre a disposizione il pennello piccolino perché può servire per eventuali linee anche questo può servire allo stesso scopo visto che è un pennello molto sottile e questi sono i da vinci mentre questo qua è un borciani bonazzi però ripeto quello che trovate in edicola dipende dalla zona in cui siete quello che trovate può andar bene i colori che useremo per le foglie sono il verde il giallo il bianco e nero cominciamo da cose molto semplici come avevo detto perché non è non si impara in una sola volta quindi man mano impareremo le cose più difficili allora andiamo a fare un'altra foglia con stelo più giù cosa faccio con il pennello piccolo vado a miscelare un po di verde di giallo e poco poco di nero al lato ricordatevi di fare sempre più di una tonalità perché poi ci servirà per scurire o schiarire quindi vado a fare questo è un po più chiaro è quello un po più scuro vicino allora con quello leggermente più scuro vado a fare una foglia qua e comincio così fatemi sapere se si vede bene o se bisogna aumentare la luce o devo spiegare meglio fatemi sapere mi raccomando perché è importantissimo così prendiamo un po di bianco e schiariamo la parte un po più scura che abbiamo creato quella a destra riempiamo la foglia così prendo il pennello piccolo questo prendo un po di bianco schiarisco ancora un po il verde e vado a fare questa linea qui e questa linea un po più giù prendo ancora un po più bianco vado a fare questa linea e questa linea più giù adesso sciacquo il pennello prendo un po di nero schiarisco il verde un po più scuro e vado a fare questa linea così e così poi prendo ancora un po di nero e faccio così ora con il verde un po più chiaro vado a rinforzare col bianco in questo modo poi prendo un po di verde scuro e continuo questa linea faccio le rifiniture poi prendo un po di verde chiaro vado ancora a schiarire in questa maniera ora faccio col verde scuro faccio una linea qua così e mi ricongiungo la linea della foglia di sotto in questa maniera prendo un po di verde chiaro cambio pannello faccio un po di verde chiaro adesso con il bianco schiarisco un po questa parte così poco alla volta perché di qua viene la luce vado anche a schiarire questa parte qui in questa maniera ecco come vedete ha già acquistato più volume la rosa e volendo si può continuare con le foglie io intanto farei anche un bocciolo di rosa al lato quindi cosa faccio prendo un po di rosso prendo un po di rosso di rosa i colori che abbiamo usato all'inizio insomma ecco un po di rosso e di rosa faccio un rosa così chiaro che poi andrò leggermente a scurire e faccio un piccolo bocciolo qua prendo un po di nero schiarisco il rosso ecco e prendo anche un po di rosa quello iniziale faccio così fare un bocciolo è molto semplice basta solo dare un po di ombre è facile e semplicissimo quindi così ecco abbiamo avuto il bocciolo ecco qua il bocciolo ora con lo stesso pannello piccolo prendo un po di verde scuro che avevo fatto quello sulla sinistra che avete fatto prima e vado a fare un piccolo una piccola bozza di foglia qui e lo ricongiungo all'altro allora il disegno da ora in poi si può continuare come più ci aggrada facendo delle foglie facendo semplicemente un attimo che prendo l'altro pennello per farvi vedere alcune foglie alcuni steli molto leggeri che si possono fare a lato per ecco così per esempio o così il disegno si può abbellire con qualunque cosa con il verde ci si può asfizziare in tanti modi per riempire un po di spazi se invece non vi serve riempire dei spazi basatevi solo sulla rosa sulla rosa e qualche foglia necessaria però per il resto si può fare qualunque cosa ecco l'importante che se dovete ripetere il disegno più di una volta abbiate sempre lo schema iniziale più o meno per adattarlo però non è proprio importantissimo dipende sempre da quel risultato che volete ottenere ecco io spero che vi sia piaciuto questo tutorial fatemi sapere se c'è qualcosa che non avete capito oppure non ho spiegato bene se non si sente bene l'audio per esempio lasciatemi un like se vi è piaciuto questo video un bacione a tutti grazie